Da sole non potete cambiare il mondo, ma potete illuminarlo portando la gioia del Vangelo nei quartieri, nelle strade mescolate alle folle, sempre vicine e più piccoli. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto alle piccole sorelle di Gesù ricevute in udienza in occasione del loro capitolo generale. A quasi 80 anni dalla fondazione dell'Istituto, sparse in tutto il mondo, le piccole sorelle di Gesù si trovano in situazioni umanamente difficili, con i più piccoli e i più poveri, per curare, educare, catechizzare, ma soprattutto per amare e annunciare il Vangelo con la semplice vita fatta di lavoro, di presenza, di amicizia, di accoglienza incondizionata. La difficoltà del tempo presente vi fanno condividere i dolori di tanti fratelli. Anche voi, insieme a loro, vi trovate a volte costrette a chiudere o abbandonare le vostre case per fuggire altrove. Anche voi conoscete le prove dell'età, della solitudine e della sofferenza. Anche voi sperimentate la durezza del cammino quando si tratta di rimanere fedeli attraversando deserti. Ma in tutto questo l'amore che portate nei vostri cuori fa di voi delle donne liberi attaccate all'essenziale.